c'è una lucertola dietro il vaso e la mia cagnolina è impazzita vuole prenderla a tutti i costi vedete rimane ore ed ore così a fissare il muro dove la lucertola poi inevitabilmente si arrampica i velocissimamente quindi lei non riesce mai a prenderla rimane ore così immobile come una statua a fissare il vaso o il muro sperando che la lucertola esca ma questa lucertola non non esce forse è solo un parto della sua fantasia della fantasia della mia cagnolina chissà ciao a tutti e bentornati sul canale un breve video oggi per farvi vedere l'ultimo piccolo acquisto che ho fatto si tratta di bottoni e bottoni perché sto cominciando a realizzare dei progetti autunnali anche se c'è ancora caldo ci sono ancora più di 30 gradi però sinceramente io sono un po stufa dell'estate scaldacollo e coprispalle cappelli eccetera e accessori autunnali insomma che vorrei guarnire decorare con dei bottoni carini allora sono andata nella merceria del mio paese dove so che ci sono dei bottoni simpatici ad acquistarne un po però sinceramente mi sono un po pentita dell'acquisto perché non perché i bottoni non siano belli ma perché ho speso tantissimo secondo me adesso vi faccio vedere che cosa ho preso e poi vi dico quanto li ho pagati allora prima di tutto ho preso questi due bottoni a forma di cuore che mi piacciono tantissimo sono credo in legno di cocco sì questi li ho pagati tanto gli ho pagati 2 euro l'uno che secondo me è tanto e tra l'altro poi mi è venuto in mente che ho un amico che fa bijoux con la noce di cocco con il legno di cocco e quindi in realtà potevo chiedere a lui di farmi dei bottoni e probabilmente me li avrebbe fatti pagare molto meno ma vabbè allora questi poi ho preso due di questi sempre in legno molto semplici anche questi credo di averli pagati un bel po non so quanto perché sullo scontrino non c'era lo specifico c'era il totale ma vedete sono semplicissimi non sono neanche rifiniti con una vernice o sono legno grezzo così sono proprio vedete due tronchetti cioè è un tronchetto tagliato e bucato comunque mi piacevano perché sono così mi piace mi piace questo tipo di bottone in legno poi sempre in legno grezzo ho preso questo a forma di cuore anche questo super semplice era l'unico poi ho preso questo che mi piaceva ne ho preso uno solo con questa stampa di fiori autunnali da applicare su uno scaldacollo su un cappello poi ho preso questa coppia di bottoni sempre in legno questi credo siano dipinti a mano o stampati tipo con uno stampino sono un azzurro turchese con un fiorellino bianco da applicare magari su dei guanti poi ho preso quattro di questi questi qui a forma di cuore sempre in legno due con questa fantasia e due con questa anche questi per decorare dei guantini e poi ho preso due di questi con la stampa a fiorellini e due molto carini semplici a forma di fiorellino in legno scuro questi li ho pensati per sì anche questi per dei guantini magari in lana grezza in lana grossa sul beige magari secondo me sono carini ecco di tutti questi bottoni che come vedete non sono tanti è una manciatina di di robetta insomma ho pagato 14 euro allora quando mi ha detto il prezzo alla cassa io volevo lasciare lì tutto e scappare via perché secondo me io non so se dalle vostre parti li pagate meno o li pagate di più però sinceramente io credevo di spendere intorno ai 7 8 euro perché vabbè questi due euro l'uno quindi sono già quattro euro ma me ne sono accorta dopo alla cassa perché erano questi bottoni erano disposti sopra un tavolo grande tutti un po mescolati nelle scatoline quindi i prezzi su alcuni non su alcune scatoline non erano scritti insomma non erano molto chiari io li ho presi senza farmi tanti problemi tanto ho pensato vabbè che cosa vuoi che costino 20 centesimi l'uno 30 centesimi invece evidentemente no e quindi la spesa è stata 14 euro che secondo me è tanto ma vabbè ormai li avevo presi ero alla cassa il il signore alla cassa aveva anche fatto tutta la fatica di andare a vedere i prezzi chiedere segnarsi i prezzi perché erano tutto era tutto un casino e quindi vabbè sono stata zitta e ho pagato se voi conoscete un un sito magari che venda bottoni come questi in legno grezzo colorato con dei prezzi decenti e con delle spese di spedizione magari non eccessive scrivetemelo qui sotto e fatemelo sapere e lasciatemi un commento e ditemi voi dove comprate i bottoni se secondo voi questo prezzo è eccessivo o se anche voi li pagate tanto quando li andate a comprare in merceria le mercerie io le trovo tutte molto care a dire la verità avrei potuto comprarmi un bel po di filato magari su qualche sito che ha prezzi buoni con lo stesso prezzo avrei comprato credo 500 grammi di filato o anche di più anche un chilo di filato pazienza la prossima volta mi farò furba e starò più attenta bene per oggi è tutto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti